rivolgo il mio personale saluto e dal nome di tutta la comunità sarda al sindaco luca salvetti al consiglio comunale di livorno ai familiari delle vittime presenti in questo momento alla cerimonia tutti coloro che partecipano in streaming quella che ricordiamo oggi è una ferita che continua a nella memoria degli italiani e in particolare di noi sardi purtroppo dopo 30 anni dobbiamo dire che su quella tragedia giustizia non è stata fatta perseguire nella ricerca della verità è un dovere morale è un atto di responsabilità e di rispetto verso quelle vittime che ancora oggi attendono verità piena e giustizia quella tragica notte del 10 aprile 1991 il mobi prince entrò in collisione con la petroliera agip abruzzo due miglia e mezzo a largo del porto di livorno si scatenò un ruogo alimentato dal petrolio contenuto nelle stive morirono 140 delle 141 persone a bordo tra equipaggio e passeggeri l'unico superstite fu un giovane mozzo napoletano tra quelle vittime c'erano 30 miei conterranei ed era sardo il comandante ugo chessa trovato morto al suo posto in plancia di comando ultimo come deve essere ad abbandonare la nave tra quelle incidente il più grave dal dopoguerra oggi che ha interessato la marina civile italiana tanto si è detto e tanto è stato smentito dati processuali la commissione d'inchiesta da inchieste giornalistiche e non oggi sappiamo che quella fitta nebbia che fu indicata come causa principale della collisione in realtà fu un evento sopravvalutato mentre è certo che la gip abruzzo si trovava nel triangolo d'acqua all'uscita del porto zona con divieto di ancoraggio per non intralciare il percorso delle altre navi la petroliera non doveva essere lì titolava la nazione il 15 aprile 1991 ancora tanti troppi misteri sulla dinamica dell'incidente sulle comunicazioni intercorse sullo svolgimento e la tempistica dei soccorsi sono passati 30 anni e i processi e le commissioni non ci hanno ancora restituito la verità alla fine come una tragica beffa l'unico dato processuale emerso è che non ci sono colpevoli non sono emerse prove dell'intervento di fattori esterni per cui l'unica eventuale responsabilità di persone presenti non può essere oggetto di processo perché tutte sono morte nell'incidente è un lutto che a distanza di 30 anni ancora non abbiamo e non possiamo elaborare e che oggi più che mai deve spingersi verso la ricerca della verità animata dal più profondo senso di rispetto per le famiglie che ancora oggi nel segno di quell'immenso dolore chiedono giustizia ricordando le vittime e stringendoci ai loro familiari contribuiamo a tenere viva la memoria ma la storia ha bisogno di verità e solo quando questa verrà accertata potremo sentirci confortati nel profondo ancora non è stata fatta chiarezza ancora si attende giustizia oggi come rappresentante del popolo sardo sono qui ad onorare la memoria delle vittime ma anche soprattutto a chiedere che su questa immane tragedia venga fatta finalmente chiarezza la nave come noto era diretta in sardegna su una rotta frequentata fin dall'antichità una delle rotte che hanno collegato la nostra isola al resto del mondo e che hanno visto nella storia tanti terribili eventi quello della mobile prince è però per noi particolarmente doloroso proprio perché avvolto da quella cortina di silenzi di omissioni di verità nascoste che hanno rappresentato in questi trent'anni un oltraggio alle vittime apprezzo profondamente il lavoro svolto con grande impegno civile dall'associazione 10 aprile familiari delle vittime mobi prince onlus dal dottor lucchino chessa e da tutti coloro che lo affiancano in questa battaglia di giustizia per le innumerevoli iniziative intraprese alla ricerca della verità e voglio ancora una volta ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questi trent'anni anche per spronare le istituzioni so che il sindaco luca salvetti e di questo lo ringrazio ha deciso di conferire la livornina d'oro uno delle più alte onedificenze la più alta del comune di livorno giusto per riconoscere l'impegno prezioso svolto in questi anni e per aver tenuto accesi riflettori sul percorso di ricerca della verità da parte dell'associazione dei familiari delle vittime l'istituzione di una nuova commissione parlamentare d'inchiesta che andrà a proseguire e integrare il lavoro fatto dalla commissione precedente è la testimonianza viva dell'urgenza di risposte di cui anche la politica sente il bisogno continuare a perseguire nella ricerca della verità è un atto di responsabilità e un impegno di cui le istituzioni per prime devono sentire il peso non mancano le notizie circa il ritrovamento di documenti relativi alla tragedia documenti che non sarebbero ancora stati trasmessi alla magistratura ogni elemento può essere utile per contribuire alla ricerca della verità sull'accaduto è proprio quello che vogliamo verità senza questa e senza la giustizia non può esserci pace come disse il grande pontefice san giovanni paolo ii questa giustizia la dobbiamo alle vittime la dobbiamo alle loro famiglie la dobbiamo alla comunità nazionale occorre dunque continuare la battaglia la regione sarda sarà presente e sosserrà in tutti i modi il cammino verso l'accertamento della verità grazie